All'indomani delle strade bianche vinte da Kiserlowski e a cui i Tugas non erano stati invitati, ecco la Roma Maxima. Il debutto stagionale è con la maglia Tugas di Simon Spilak, che avevamo lasciato lo scorso autunno dopo il triunfo al Giro di Lombardia. E il campione sloveno ha subito risposto presente, scremando il gruppo sulla salita dei campi da Nibale, dove soltanto Aro e Nibali gli resistono a ruota. Sul successivo muro dei Cappuccini, con Spilak, c'è anche Stibar ed entrambi i campioni nazionali ma gli Tugas riescono a chiudere su Aro, Nibali e Uranchi avevano provato ad andarsene. Lo vedete, è ancora Spilak che si porta in testa e che con le sue trenate porta via un drappello ristretto che potrebbe anche andare a giocarsi la vittoria, perché il gruppo ha già perso abbastanza terreno. Insieme a Spilak e Stibar dei Tugas ci sono anche Nibali della Edison, Aro della Lampre, Uran e Maika della Etics in versione No Logo, Ionizagir e Ulissi della Banesto Santander. Ed è grazie alle trenate del solo Spilak che questi corridori riescono a tenere a distanza il gruppo, tirato dall'Ariostea. Non appena lo sloveno si sposta, ecco lo scatto del compagno Zenex Stibar. Solo Nibali, Uran e Aro rispondono al campione cieco che sembra davvero scatenato. Ma attenzione perché il siciliano e il colombiano devono sedersi sui pedali, mentre Aro è lesto a saltare sulla ruota di Stibar. Il sardo però non ha la forza di dare cambi al Tugas, o forse non vuole, fatto sta che Nibali e Uran riescono a rientrare, mentre ormai dietro c'è il vuoto e saranno dunque questi quattro corridori a giocarsi la Roma Maxima. Ed è Stibar ora a trovarsi nella scomoda posizione di dover lanciare la volata dalla testa del gruppetto, con gli avversari a ruota che non gli danno un cambio. I quattro si affacciano sul rettilineo d'arrivo e vediamo Vincenzo Nibali saltare facilmente Stibar per andare a vincere la Roma Maxima davanti a Uran e al cieco. Ancora un successo per il siciliano campione d'Italia, che aveva già vinto le classifiche generali di Mediterraneo e Andalusia oltre a due tappe nella gara spagnola. Ma ancora una volta, come alla Etnoisblad, Stibar recrimina per la scarsa collaborazione degli avversari. E con il riassunto dei primi dieci all'arrivo vi salutiamo, alla prossima.